68 il pollice si mosse dopo l'incidente non muovevo più le dita del braccio destro per riabilitarle mi siedevo davanti alla mia mano immobile e pensavo di avvicinare il pollice al resto della mano sullo schermo della mente immaginavo che il mio pollice ubbidisse all'ordine dato dal cervello anche se non accadeva niente per mesi e mesi detti questo inutile ordine fino a quando mi accorsi che il pollice si mosse commento attraverso i due gusci del corpo mentale che le guide chiamano mente istintiva la qualità del pensiero giunge al terminale del corpo mentale nel corpo fisico che noi chiamiamo cervello tutte le malattie psicosomatiche e come le guarigioni hanno quest'origine anche le stimmate